Aspettiamo di vedere la bozza del testo del decreto legge. Ad una prima analisi, stando a quelli che sono i resoconti, non mi pare che ci sia quella svolta che ci aspettavamo. Io insisto, tra l'altro, nel chiedere alla Ministra Calderone e al Governo di coinvolgere anche i sindaci. Avevamo avuto rassicurazioni durante l'incontro di domenica scorsa, cioè quella successiva alla tragedia di Via Mariti, senza coinvolgere gli enti locali è difficile costruire un testo che parta dal paese reale, dalla realtà che viviamo tutti i giorni. Mi auguro che il Governo su questo non ci deluda per l'ennesima volta, perché c'è anche la disponibilità della segretaria Schlein a costruire un'iniziativa bipartisan e dunque sarebbe estremamente sbagliato, sarebbe un'occasione persa se su un tema così grave, urgente come le morti bianche, il Governo procedesse in via unilaterale, peraltro con incontri piuttosto fugaci come quello che mi pare sia avvenuto con le parti sociali. Ci sono ancora spazi per fare un lavoro fatto bene, nell'interesse delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. Noi ci siamo, vogliamo essere coinvolti perché solo così possiamo costruire qualcosa di buono. È l'ultima spiaggia, è l'ultima occasione. Se il Governo perde questa occasione, io credo che ci saranno delle reazioni fortissime e pesantissime dal paese, dal mondo del lavoro e questo non possiamo permettercelo perché le morti di Via Mariti e di tutte le altre tragedie sul lavoro che ci sono state in questi mesi sono il monito più forte che possiamo avere e rispetto al quale dobbiamo dare delle risposte.